Buongiorno lettori di chitarre, sono William Stravato. Oggi non siamo in una semplice aula, questo è un pianoforte che non so suonare naturalmente, ma per voi suonerò un esempio alla chitarra riguardante la lezione che ho scritto sul numero di chitarre e la lezione per l'appunto la lezione che parla dei pattern armonici, pattern armonici che io utilizzo su un brano che ho appositamente scritto per voi. Dopo aver suonato il brano nella sua interezza suonerò l'esempio per voi più lentamente. A dopo, ciao! Grazie a tutti! Oh, eccoci qui! Spero il brano vi sia cresciuto. Ora suonerò per voi, a una velocità più lenta, la parte armonica. Buon ascolto! Wow, eccoci qua! Spero che questo brano vi sia piaciuto e sia stato utile per voi questo questo esempio di applicazione armonica. Alla prossima! Ciao!